Ciao amici da Frank Bianconero, faccio questo video in verticale oggi per cambiare la rotta si spera la Juve, ovviamente sto scherzando. Domani si giocherà l'Everkusen Juve, partita inutile a fine dei risultati, dove De Ligt fortunatamente lo lascia a casa, dovrebbe giocare Rabiotitolare, dovrebbe giocare De Miral titolare, dovrebbe giocare Rugani titolare, dovrebbe giocare Buffon, De Sciglio, Danilo, un po' di rimpasto e un po' di cambi, perché è giusto che sia, perché non in partita che giochiamo c'è il rischio sempre di infortuni dietro l'angolo, perciò dopo anni è una partita di Champions che si vede con la rilassatezza totale, nel vedere dove può succedere di tutto, può succedere anche che per assurdo facciamo un bellissimo calcio e vinciamo con facilità lì in Germania, purtroppo per i troppi infortuni non si può fare il turnover completo, perché ci fosse stato anche Douglas Costa, Ramsey, magari potevano mettere minuti nelle gambe, perciò rimpolpare un po' la rosa che soprattutto a centrocampo è un po' piccola, ma questo video lo voglio concentrare su quello che è il nostro presidente Andrea Agnelli, dove ieri alla cena di Natale che c'erano presente la squadra femminile e la squadra della Juve ha fatto un discorso bellissimo nei confronti dell'allenatore, magari lui non era contentissimo di prendere Sarri, ma la grandezza di un presidente di una società è quello di star vicino all'allenatore, perché magari anche lui pensa che è un po' in difficoltà come ambiente, perché secondo me la Juve è pesante da gestire, da digerire e per un allenatore sanguigno, un po' troppo con le sue idee deve un po' ammorbidirsi, perciò Agnelli ieri gli ha dato un attestato di stima dicendogli vinceremo insieme, stringiamoci insieme, perciò mentalità di forza, perché alla fine le vittorie arrivano sì se hai allenatore e giocatori forti, ma anche se alle spalle c'hai sempre una società che è alle tue spalle, nel bene e nel male, risultati positivi e meno. Fortunatamente queste frasi sono arrivati dopo la sconfitta a Roma con la Lazio, dove hanno ribadito che è difficile quello che stanno provando a fare e dove in più Agnelli ha ribadito la responsabilità che hanno parati Giannelli, loro sì che hanno la pressione, perché le ha dato la responsabilità di scegliere, di fare il mercato, di non intromettersi nella scelta dell'allenatore come giusto che sia, perché lui è un presidente, ma bisogna dare carta bianca ai dirigenti che lui stesso sceglie, ma l'ho notata proprio un atto di potenza di Agnelli, di far capire il potere a tutto l'ambiente, perché Agnelli c'è sempre, anche se non fa ogni dieci minuti un'intervista, ma ha fatto capire oltresì che lui c'è sempre, quando non si vede, quando non si sente, lui c'è sempre ed è sempre vicino all'allenatore, squadre, dirigenti, dando i giusti e le giuste responsabilità a chi le ha, lui non si intromette nell'apparato sportivo, formazioni, mercato, allenatore, queste cose qua, però ieri ha fatto capire a Sarri, che secondo me l'ha visto un po' in difficoltà, che Agnelli è con lui, che la società è con lui, perciò questo è un attestato di stima verso l'allenatore, e queste persone qua fanno grandi le società, non basta solo il nome, basta le persone ci vogliono, non è perché Juve Agnelli è sicuramente bravo nel gestire, nell'essere presidente, no, lui lo è, lui lo è, e sia Juventino dentro, e sia nelle istituzioni, e sia nel parlare, e sia nell'essere discreto, e sia non stare mai davanti alle telecamere, io sono rappresentato da un presidente che è la fine del mondo, nel suo modo di essere e di fare, per noi tifosi, e per tutto l'ambiente Juve, per la squadra, e come ha fatto crescere questa società, perciò io dico, fortunatamente sono Juventino, non abbiamo cambiato 5-6 società in 10 anni, sono stati forti, siamo partiti dal baratro, siamo risaliti, soprattutto grazie a lui in questi 10 anni, oltre ai dirigenti, vecchi che sono andati via, perciò a tutti va dato il merito della crescita di questa società, ma secondo me per un allenatore sul palco, comunque in una festa pubblica, sentirsi dire determinate parole da Agnelli, che è vero che rappresenta il presidente della Juve, Magnelli comunque è un cognome pesante, vuol dire tanto, perciò io sono contento di avere un presidente, speriamo resti il più possibile alla Juve, perché se resta a lui la crescita è sicura, non c'è la sicurezza del 100% di vittoria, ma che si competa sempre per cercare di dar fastidio a vincere, parlo soprattutto in Europa, questo ne sono straconvinto. Questo volevo fare oggi su Agnelli, un grandissimo presidente, persona, semplice, umile, ma che è sempre dietro alla squadra, alla società, tifosi e tutto l'ambiente juventino. Ciao a tutti da Frank Bianconero, iscrivetevi al canale, lasciate un like e ditemi la vostra. Ciao a tutti!